Nominati i tre nuovi direttori di unità operativa complessa alla ASL di Teramo, si tratta di Michele Trigiani, 55 anni, già operativo nell'unità di cardiochirurgia del Mazzini, Alessio Ciuffoletti, 49 anni, che dal prossimo 15 ottobre prenderà servizio nel reparto di ortopedia e traumatologia, sempre a Teramo, Enrico Marini, che diventa ufficialmente il nuovo primario di medicina interna dell'ospedale San Liberatore di Atri. Un passo importante compiuto dalla ASL per tamponare la carenza di direttori in alcuni reparti. Il sistema sanitario soffre di questa mancanza di medici in termini generali. Oggi è un punto importante perché entrano il direttore della medicina interna di Atri, della cardiochirurgia di Teramo e dell'ortopedia di Teramo. Ricordo che abbiamo ancora almeno 10 procedure pendenti di varie discipline. È uno sforzo amministrativo che dall'esterno non sembra che sta facendo questa ASL. La struttura sanitaria teramana, che torna dunque ad essere un'eccellenza appetibile, non solo per quanto riguarda l'apparato medico, ma anche per gli utenti, e garantire servizi e presidi di qualità è anche un modo per contrastare il fenomeno della migrazione di pazienti negli ospedali di altre regioni con un aggravio di costi per la sanità abruzzese. Vedere che sono tanti a partecipare ai concorsi ci fa pensare che ancora Teramo è una ASL attrattiva. Cioè è motivo di orgoglio questo, no? Perché vedere che non si limitano solo gli interni a partecipare, ma che vengono da tutta Italia, significa che ancora riusciamo a dare un segnale molto forte. Prima ancora c'erano state le assunzioni degli infermieri, del personale paramedico. Sì, per quanto non genere di infermieri paramedici, che non abbiamo un vincolo, una difficoltà così grande come quella dei medici, abbiamo assunto, ricordo, 140 infermieri e operatori sociosanitari in un colpo solo a tempo indeterminato. Io sto cercando in Italia, quando operazioni di questo tipo ci sono state, credo che sia anche un vanto di questa amministrazione a favore dell'utenza e anche a favore complessivamente, se possiamo dire così, dell'economia di questa realtà.